I suoi vestiti a Sanremo. Stiamo parlando di Veronica Bertolini, studentessa dell'ultimo anno dell'Istituto Saraceno Romeggialli di Morbegno, indirizzo produzione tessile sartoriale. L'artista, classe 2000, originaria di Delebio, ha trovato il proprio modo di essere protagonista la scorsa settimana nella Città dei Fiori. Veronica ha ideato e realizzato degli abiti da sera, poi indossati da tre modelle, durante un evento di contorno al celebre programma musicale, all'interno del grande hotel des Anglais. Una passione per il cucito tramandata alle dai suoi cari. Questa passione è nata dalla tradizione di famiglia, partendo anche dalla mia bisnonna, che appunto faceva parte di questo campo. Questa occasione di andare a Sanremo è stata un'occasione per presentare la mia creatività e la mia fantasia. Questi vestiti li ho realizzate grazie anche alla sartoria Cucericucci, di cui fa parte anche mia mamma. Sono dei vestiti da Gran Gala, appunto questa mini collezione si chiama Grand Soiree, appunto Grande Serata in francese, e hanno una linea molto morbida e uno stile contemporaneo, in modo da far risultare la figura della donna e tutte le sue curve. Il parrucchiere talamonese Stefano Cucchi e il fotografo morbeniese Giorgio Mazzoni, gli artefici della collaborazione con le modelle, culminata nella Kermes Sanremese. Importante la collaborazione con Giovanna Bertolini, un'artista di Berbeno di Valtellina, realizzatrice del logo e dei gioielli indossati dalle modelle. L'emozione più grande è stata quando abbiamo fatto le foto davanti all'Ariston e tutte le persone facevano pure le foto al mio vestito, è stato bellissimo. Un sogno che parte da lontano, dagli insegnamenti e dalla frequentazione del laboratorio dell'insegnante Chiara Vairetti. Una vetrina non solo per Veronica, ma anche per l'istituto Saraceno Romegialli e per il suo corso di produzione tessile sartoriale, nato cinque anni fa. Non un corso che si limita alla produzione sartoriale, come magari può dire il nome del corso, ma che prevede anche materie di progettazione tessile, di studio dei materiali, tutto quello che è, praticamente tutto quello che gira intorno a un prodotto moda. Per me è motivo di grande orgoglio il fatto che una ragazza sia stata in gamba, sia riuscita a progettare abiti di alta moda, quindi non solo a cucirli, ma addirittura a idearli, a progettare. Questo è un corso che permette alle nostre ragazze o di essere degli esecutori oppure, perché no, di avere delle sartorie per conto loro, di essere stilisti, di progettarsi, di essere alla ribalta, non solo per conto del Made in Italy, ma anche in ambito nazionale internazionale.